Ancora un altro successo per il giovane pesista Nisseno, Mirko Scarantino, che dopo l'amarezza dei mondiali in Kansakistan ha conquistato per il secondo anno consecutivo la medaglia d'oro agli europei juniori e sali masso a Cipro nella categoria 56 kg. Il 19enne Nisseno si è così preso la rivingita sollevando complessivamente 230 kg, 108 nello slancio e 135 nello strappo, un titolo che si aggiunge a quelli conquistati in passato. Voglio cancellare quella prestazione del mondiale perché è stata una giornata abbastanza negativa per me e ha affrontato quella gara non molto bene. Sicuramente saranno state molte pressioni perché la squadra maschile era puntata tutta sui miei occhi quindi di questo essere sincero ne ho risentito tanto. Però questo non fa cancellare tutto ciò che ho fatto perché adesso ci saranno nel 2015 tantissime gare di qualificazione dove potrò strappare il pass per Rio e sicuramente non mancherà perché basta un risultato abbastanza positivo per rientrare nei primi 15 nella ranking. Ho avuto la possibilità subito dopo nove giorni di rifarmi in questo europeo che è il quarto titolo europeo che conquisto nonché il secondo titolo europeo juniors che come diceva il nostro presidente Urso non è mai successo nella storia di conquistare due titoli di seguito in due anni. Io l'ho fatto come l'ha fatto Jenny Pagliaro che ha conquistato i due titoli europei senior e questo rimane nella storia. Ma adesso che sto avendo questi risultati comunque mi rendo conto che ho tantissime persone che mi stanno al fianco che mi seguono e questo sicuramente mi fa onore. Vedo anche Caltanissetta la nostra città che comunque mi chiama sempre mi chiamano il sindaco tutti e questo per me è una grande cosa che mi seguono ovunque e sono veramente soddisfatto di tutto ciò. Un titolo quello conquistato da Mirko che è anche una vittoria per il padre Giovanni plurio olimpionico e tra i tecnici dello staff nazionale di pesistica. Che segue passo dopo passo il figlio nella sua passione.